Sito sì o sito no? Beh, all'inizio più sito no. Hai più bisogno di una landing page all'inizio per promuovere un servizio specifico che di una vetrina che presenti al mondo tutti i servizi che tratti, specialmente se stai partendo da zero. Tante aziende spendono 2.000, 2.500, 3.500, 5.000, 6.000 euro per un sito che poi non gli porta ovviamente contatti. Perché? Perché il sito, per quanto posizionato bene, è un contenitore e non è che questo ha la capacità di generare automaticamente del traffico. Il traffico ce lo devi portare tu. Ecco perché all'inizio dico sito no. Perché a quel punto, al posto di creare un sito, crei una bella landing page dove parli del servizio che vuoi promuovere e automaticamente fai confluire il traffico lì. Tieni presente che una landing page ha molte più probabilità di trasformare un utente in potenziale cliente. Perché? Perché è una pagina specifica che ha proprio lo scopo di accompagnare riga dopo riga appunto l'utente a lasciare i dati e quindi a richiedere maggiori informazioni relative al servizio che stai promuovendo. Cosa che invece il sito si fa, ma in minima parte. Perché? Perché nel momento in cui tu atterri nel sito, a parte che è dispersivo, magari già una, due, tre, quattro, cinque pagine, quindi di conseguenza diminuisci drasticamente le probabilità che l'utente poi lasci i suoi dati per il servizio per il quale è atterrato all'interno del tuo sito. Ma poi proprio perché, come ho detto prima, oltre a essere altamente dispersivo, come ti ho appena spiegato, il sito è una vetrina. È quel posto dove tu metti tutto quell'insieme di prodotti e servizi che tratti e che non fa altro che poi generare confusione nella mente del tuo potenziale cliente. Tu devi sempre ragionare con la testa del tuo potenziale cliente. Immagina di far partire la sponsorizzata che tratta di un servizio specifico. Se questa sponsorizzata poi porta all'interno del tuo sito, dove sono presenti tutta una serie di prodotti o servizi che la tua azienda offre, secondo te il potenziale cliente poi va a spulciarsi tutto il tuo sito oppure lascia i dati per il servizio specifico per il quale lo hai attratto? Secondo me è la prima. Mentre se tu fai partire una sponsorizzata e fai confluire il traffico all'interno di una landing page specifica che tratta del servizio specifico, perdonami la ripetizione, che appunto tratti all'interno della sponsorizzata che stai facendo camminare nei vari social, a quel punto le probabilità che l'utente inserisca i dati e richieda maggiori informazioni aumentano drasticamente. E se hai bisogno di informazioni, link che trovi in descrizione. Eh ma a quel punto Alessio, ma se io creo solo una pagina specifica, tanto vale creare un sito internet super hiper performante? Ma manco per niente, perché fondamentalmente il tuo scopo è quello di vendere il tuo servizio. E a tal proposito, se hai bisogno di supporto, link in descrizione. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, breve ma intenso. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanellina e al prossimo video. Grazie per la visione!